Un autore, quando è appassionato, è sempre una contestazione vivente. Appena apre bocca, contesta qualcosa al conformismo, a ciò che è ufficiale, a ciò che è statale, a ciò che è nazionale, a ciò che, insomma, fa bene per tutti. Quindi non appena apre bocca, non è vero, perché soffrire bocca è scampoloso sempre. Grazie a tutti. Non mi cerca ancora, se ti voglia ancora, più carezza ancora, niente abbraccia ancora, Niente abbraccia ancora, mai c'è un niente ancora, proprio c'è un niente ancora, 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 ancora. Ah, ah, ah. Si me lasse, non mi scorda, e scancello ogni ricorda. Si... Si... Non mi cerca ancora, niente abbraccia ancora, niente abbraccia ancora, 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 ancora. Si... 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 Mi voglio i ganni Lassare da porta